Via per il mondo a cercare la vita. Testimonianza di Michele Costamagna, detto Khin Le Giardinè, nato a Isola di Benevagenna, classe 1886, contadino. Mioce, il padre di mio padre, era un fattore alla grossa tenuta a mezzadria di Isola, sotto un padrone proprietario di cento giornate a vigneto, comandava i boari, poi ha dato una dote un po' grossa a due figlie, mille lire, allora è stata la sua rovina. Si è trasferito qui a Crava a fare il giardiniere. Così sono cresciuto quasi nella miseria perché mio padre aveva niente e la famiglia era numerosa, padre, madre, sei figli e il nonno, in nove a vivere di niente. Non sapevo che cosa erano le scarpe, sempre scalzo o con gli zoccoli nei piedi. Gli zoccoli costavano tre lire il paio e le tre lire non c'erano mai. Solo a novembre ci compravano gli zoccoli, quando sentivamo già fredde i piedi. Al pascolo mettevo sempre i piedi nudi nello sterco per scaldarli un po'. Mangiavamo polenta e minestra e i tagliarin alla baciasa, ossia le tagliatelle con molta acqua. Il bacias è la pozzanghera, tagliatelle con acqua e un po' di pomodoro. Non avevamo nemmeno l'alloggio per dormire. Noi bambini andavamo nella stalla del vicino, aveva anche dei bambini. Dormivamo tutti assieme. A dieci anni ero già da vacchè, dai caplin della Rocca, gente che era padrona di otto-dieci vacche. Prendevo 27 lire tutto l'anno, dall'aprile a Santa Caterina, e mangiavo meglio che a casa. Anche polenta e minestra, ma anche un po' di pasta asciutta ogni tanto. Poi, negli anni successivi, sono andato dai Maccagno, dove tutte le mattine alle quattro c'era la sveglia. Il padrone mi svegliava e mi diceva, va a dire un paternoster. Allora io mi spostavo verso la greppia, mi coricavo dentro e facevo ancora un sogno. Come usciva un po' di bordello, allora mi svegliavo e il paternoster era già detto. A 14 anni ero da servitore dei Turco, un piccolo proprietario che aveva venduto tutta la sua terra per farsi il capitale a andare in cascina da mezzadro. Turco aveva quattro figli e tirava a risparmiare. Mi diceva sempre, alla tua età io portavo già i sacchi da un quintale, polenta tutte le sante sere. Niente pancia a tavola, si tirava la cinghia. Mi metteva un bicchiere di latte nella scodella e poi mi faceva. La polenta non bisogna tenerla in mano e poi bagnarla tutta nel latte. Devi prendere un boccone per volta con la forchetta e bagnarlo nel latte. Così il latte durava di più. Costava due soldi al litro il latte. Anche lui e la sua famiglia mangiavano così, polenta e latte. Ma delle volte che io uscivo dalla cucina per dare da mangiare ai maiali e magari tornavo a prendere un po' di crusca, lo vedevo che si tagliava pane e formaggio di nascosto. Mai che mi abbia detto. Prendi un pezzo di pane. È già morto. È morto anche lui e non ha lasciato lo semente. Anche i suoi figli sono già morti senza aver fatto fortuna. In quei tempi là noi servitori si andavamo a dormire stanchi alle dieci di sera e alle quattro bisognava già aver munto perché passavano a ritirare il latte. All'inverno dormivamo sul soppalco di assi sotto la volta della stalla che fungeva da giaciglio. Nelle stalle, come i colombi, sui ripiani di assi che poggiavano sulle chiavi di ferro, sui tiranti delle volte. Le volte erano umide per il calore delle bestie, colavano acqua. Scendevamo di là sporchi come mostri. Più nessuna fisionomia. Tutti smerdacchiati dalle mosche. Non le sentivamo mica le mosche nel sonno. Scendevamo e correvamo a lavarci. Un giorno, era estate, sono andato con Turco a bagnare la meliga. Lui mi dice vai in fondo al campo e quando arriva l'acqua mi fai un urlo. Io vado, mi corico nel solco e mi dico. Quando arriva l'acqua mi sveglia. Mi addormento subito. Poi sento gridare. Ma cosa fai lì? Mi sveglio di soprassalto. Mi vedo il padrone davanti. Avevo già tutta l'acqua addosso. Era calda l'acqua e non mi aveva svegliato. A scuola ci sono andato poco. Avevo altro da fare che andare a scuola. Avevo da andare da vacchè. Ho fatto solo la seconda. La gente erano tutti particolari con due o tre giornate. Con due vacche, non di più. Gente quasi povera come noi. Erano quattro i ricchi a Crava. Il padrone di una fornace. Il geometra proprietario di una cascina di 16 giornate. Un tale che aveva sposato la farmacista. E il signor T. Il presidente del consorzio delle Bialere. I ricchi passeggiavano per le vie di Crava e noi altri, come gli passavamo vicino, ci toglievamo il cappello. Se no, un mio amico, Cavallotto, un giorno va dal signor T. a chiedere lavoro. Se lo prendeva a ripulire i fossi, i canali. Il signor T. gli dice no. Poi si gira a parlare con il suo aiutante e parla forte, che Cavallotto senta. Viene a chiedere lavoro e non si toglie nemmeno il cappello. Mio caro, oh Giacche, eravamo schiavi, peggio dei cani. Nel 1904 sono andato in Francia perché ero stufo di fare il servitore che non mi davano da mangiare. A Nizza c'era già un mio fratello. Sono andato a Sant'Isidoro a governare le vacche in una cascinotta. Guadagnavo prima 20 lire del mese, poi 30. Mai dormito su un letto. Sempre dormito sui sacchi di crusca. Mandavo i soldi a casa e, come me, facevano anche il fratello che era in Francia e gli altri due che erano in America, in Argentina. Tra tutti cominciavamo a fare qualcosa. Mio padre poteva comprare una vacca, poi un'altra. All'inverno stavo in Francia. Con l'estate tornavo in Italia. Andavo con mio padre a tagliare il grano a Val, in pianura, a Marene. Andavamo sulla piazza una squadra di 4 o 5. Sulla piazza di Marene erano sempre almeno 60 i manovali che si offrivano. I padroni ci chiamavano, ci aggiustavamo. Tre lire al giorno. Alle otto ci portavano una minestra di fagioli mezzi crudi. A mezzogiorno una zuppa di vino e pane. A merenda lo stesso. A cena ci buttavano la paga e ce ne andavamo via. E quando non trovavamo ad aggiustarci? Compravamo un chilo di pane in due o tre e un chilo di ciliegie sotto gli olmi della piazza e basta. Era un brutto lavoro quello di tagliare il grano. Ce n'erano che morivano per i colpi di calore, nei solchi. Nel 1908 sono andato anch'io in Argentina. Eravamo nove della crava, servitori e anche figli di mezzadri che non andavano d'accordo in famiglia. C'era l'abitudine di andare via per il mondo a cercare la vita. Sono partito da Genova. 200 lire il viaggio con il Mendoza. Dormendo sotto, nelle cucciette come le bigatere. Barcellona, stretto di Gibilterra, poi cielo e mare. Eravamo tre o quattro che non pativamo il mare. Giocavamo alle carte a Chanet Ledes. 17 giorni di mare. Poi ho visto Montevideo e mi sono già fatto un po' di coraggio. Sbarcato a Buenos Aires, sono andato a Santa Regina. Poi a Rufino, Cagna de Seca, con la ferrovia del Pacifico. Quando sono arrivato a destinazione nella Pampa, là non tagliavano ancora il grano. Non c'erano case, solo terra e cielo. Ci siamo sistemati sotto una tenda. Poi abbiamo fatto i mattoni di terra, di fango. In un giorno, con le forme a dieci buchi, abbiamo fatto tutti i mattoni occorrenti per la casa. Quattro muri. Il tetto di lamiere, ma un tetto bene ancorato a terra, con dei tiranti di filo di ferro, perché il vento è fortissimo. Non ci sono né montagne né alberi che lo fermino. Quando viene il temporale, porta via tutto. Una volta, sono andato a fare una coseccia, una campagna del grano, con un paesano di Crava. Io mi sono coricato nella casa. Lui mi dice, ah, io dormo all'aperto, dormo sul carro. Nella notte è venuto un temporale. Il carro, spinto dal vento, ha incominciato a correre all'indietro. Poi il timone si è piegato e il carro si è rovesciato. Quando si andava dietro alla macchina a vapore per la trebbiatura, eravamo dodici manovali a servire la macchina e trebbiavamo 400 quintali al giorno. La paga era di 60 centesimi al quintale. Il pesos valeva 44 soldi. Il fuoco alla macchina a vapore lo facevamo solo con la paglia. Era un gran lavoro a buttare sempre nuova paglia nella caldaia. Con noi, come manuali, c'erano degli spagnoli e dei montenegrini. I montenegrini erano alti, grossi, ma lenti. Ci mettevano mezz'ora a piegarsi e poi ad alzarsi. Sono stato anche sottopadrone per la ratura, per la semina. In un'azienda abbiamo fatto 18 mila quintali di grano. Era un'azienda di 300 quadre, 1200 giornate. La paga era di 100 pesos per la stagione. Chi invece era in rendita, come i miei fratelli, aveva 7 quadre per il profitto, 28 giornate di cui godeva il prodotto, ma il rischio era suo. Dava il suo lavoro per l'interazienda e prendeva come paga il prodotto di 7 quadre. Eh, l'ho girata l'argentina. Era una vita di fatica, più fatica che in Francia. Ma ero giovane. I sacchi da 70 chili li facevo volare. Giravamo da un posto all'altro a fare le campagne del grano. Con il Bündin de Murus e un altro di Crava ci siamo spinti anche al nord. Viaggiavamo magari cinque giorni col treno. Eravamo armati di rivoltella e io avevo un lungo coltello che mi serviva anche per mangiare. Gli argentini fanno che prendere il boccone della carne con i denti e poi tagliano da sotto. Quando non sono ubriachi, sono bravi gli argentini. Ma il Bündin de Murus mi diceva sempre, il più bravo argentino bisognerebbe bruciarlo vivo. Nella Pampa vivevamo proprio isolati. Quando eravamo al lavoro, in quelle piane immense, per avvertirci che era mezzogiorno, alzavamo una pertica con sulla punta un sacco. Noi da lontano vedevamo. A cavallo raggiungevamo la baracca per il pranzo, la solita minestra con carne bollita. Con gli argentini andavamo abbastanza d'accordo. Un vecchio discorrendo mi raccontava di quando erano passate le prime vaporiere nella Pampa. Non si capiva che bestie fossero quelle vaporiere. Lì era gente molto abile a catturare le bestie con il laccio. Si sono messi in tre o quattro, hanno lanciato il laccio, hanno catturato la ciminiera della macchina a vapore, ne hanno fatte di capriole. Una volta in un'osteria c'era un argentino che suonava la chitarra e cantava. Giò me pongo a cantar con mi chitarra alla mano. Vale di più un argentino che il 50 italiano. Nella stanza accanto c'erano due o tre piemontesi e uno dice. Non muovetevi, non muovetevi che vado io. Si presenta davanti all'argentino. Eh amico, come stai? Gli dice. Gli offre un cicchetto, poi gli chiede la chitarra e comincia a cantare. Giò me pongo a cantar con mi chitarra alla mano. Vale di più un italiano che 50 compadron. E poi gli ha spaccato la chitarra in testa. Era così che bisognava fare. Poi sono venuto malato. Non mi veniva più il fiato. Appena mi sono ripreso un po' ho pensato. È meglio che me ne vada. Sono andato in un negozio. Ho prenotato il bastimento Regina Elena. Dopo cinque anni di lavoro, cinque campagne del grano e altrettante a cogliere la meliga, avevo in tutto 800 lire di risparmio. I soldi li tenevo in una saccoccia di serpe cucita all'interno della sciarpa nera che mi avvoltolava la vita. A Buenos Aires ho aspettato otto giorni la partenza del bastimento. C'era chi voleva prendermi soldi, chi voleva truffarmi. Ma io sapevo difendermi. Difidavo di tutti. Appena ritornato a Crava ho pensato di ripartire, di tornare subito in America. Ma mia madre mi dice guarda è morto c'è. Io eredito 15.000 lire. Tuo padre aggiunge 10.000 lire con un debito al 4 per cento. Compriamo un po' di terra e ti sposi. Abbiamo comprato 10 giornate a 2.100 lire. In due anni abbiamo pagato il debito. Nel 1915 mi sono sposato. Nel 1916 la prima bambina aveva due mesi quando sono partito per la guerra. Sono tornato a casa nel 1919. Mia figlia non mi conosceva ancora. Ha visto un uomo vestito da soldato. È scappata via. Poi è venuto il fascismo. Ma io non ci facevo caso. Non mi interessava. Del fascismo pensavamo che era un fastidio. Che non andava bene. Portavamo anche la camicia nera. Così per far vedere. Per far credere che non eravamo in disaccordo. Ma non eravamo di quel partito. Il fascismo non ci ha dato né vantaggio né danno. Lo stesso come se non ci fosse stato. Per far credere. Grazie a tutti